Ed è stato pubblicato uno studio condotto da alcuni ricercatori dell'Università degli Studi di Bari che ha analizzato il rapporto e le interazioni tra la proteina spike del virus e le cellule umane. Il nostro Luca Ciciriello ha sentito il professor Cerri che ha coordinato la ricerca e che spiega i dettagli dello studio. Allora il servizio relativo alla ricerca e poi l'intervista. Un sistema potenzialmente capace di prevedere e valutare la capacità di diffusione e la pericolosità delle varianti del coronavirus aiutando così la ricerca di terapie e vaccini più efficaci. Sono alcuni dei risultati raggiunti da uno studio condotto da un team di studiosi baresi coordinato da Ciro Leonardo Pierri del Dipartimento di Bioscienze, Biotecnologie e Biofarmaceutica dell'Università di Bari e pubblicato su una rivista internazionale del gruppo Springer. La ricerca si basa sulle interazioni tra una parte della proteina spike del virus e il recettore che si trova sulla superficie delle cellule umane che consentono l'entrata del virus nel corpo. In base alle forze delle interazioni si stabilisce la risposta dell'organismo al virus. Secondo quanto accertato dai ricercatori, nella stessa variante ci possono essere amminoacidi diversi che contribuiscono a creare un'interazione più o meno forte. Così la loro comprensione associata a dati epidemiologici e al sequenziamento delle nuove varianti permetterà di predire le conseguenze della diffusione di nuove varianti del virus. Allo studio, condotto anche grazie al supporto dell'Associazione Italiana Ricerca di Mitocondri, hanno preso parte anche giovani ricercatori dell'Università degli Studi di Bari. Quello che noi facciamo è che calcoliamo la forza dell'interazione tra proteina spike del virus e proteina C2 umana e da questo cerchiamo di capire quale può essere la trasmissibilità, quindi se l'interazione è più debole possiamo avere una maggiore trasmissibilità, se l'interazione è più forte possiamo avere una maggiore virulenza con maggiori danni all'ospite. Nel momento in cui uniamo dati epidemiologici al calcolo di questa interazione fra proteina spike del virus e acidura umana e inoltre aggiungiamo a questo le attività di sequenziamento per capire qual è la sequenza della proteina spike della variante che magari è maggiormente in circolazione in un certo periodo, unendo questi tre tipi di dati noi possiamo capire quanto può essere pericolosa la diffusione della nuova variante e quindi ricorrere più velocemente a per esempio un rinforzo del distanziamento sociale piuttosto che delle restrizioni da un lato. Da un altro lato invece ci permette di capire il nostro tipo di approccio, quali sono le regioni più importanti della proteina spike responsabili delle interazioni con la proteina acidura umana.